Buongiorno, benvenuti. Siamo al secondo appuntamento con l'Istituto Italiano Tecnologia di Genova, il Piccolo Teatro di Milano. Chi non c'era l'altra volta, anche l'altro martedì l'ho detto, che cosa accomuna l'Istituto Italiano Tecnologia e il Piccolo Teatro. In realtà apparentemente nulla, in realtà c'è una cosa che è fondamentale di entrambi gli ambiti, che è la ricerca. La nostra ricerca è in campo artistico, la loro è una ricerca in campo tecnologico. Entrambe le ricerche sono in realtà ricerche sull'umano e quindi ci accomuna tantissimo. Io non vado oltre, il titolo lo vedete dietro di me, oggi abbiamo con noi Alberto Diaspro che affronterà un tema interessantissimo, quindi non parlo oltre. Vi do appuntamento a martedì prossimo e lasciate sul palco a chi ne ha più diritto di me. Grazie ancora e a martedì prossimo. Vorrei illustrarvi un settore in cui si è fatto finora poco, ma che sul piano teorico offre enormi potenzialità. Si tratta di un campo un po' particolare, poiché non ci dirà molto sulla fisica fondamentale, nel senso di che cos'è questa particella, ma che potrebbe aiutarci a capire molte cose interessanti sugli strani fenomeni che avvengono in situazioni complesse e soprattutto potrebbe avere innumerevoli applicazioni tecnologiche. Ciò di cui voglio parlare è il problema di manipolare e controllare le cose su una piccola scala. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie per questa introduzione e cominciamo con le nanotecnologie per il vivente. La lettura che avete sentito è stata tratta dal libro Il piacere di scoprire, Richard Feynman, ed è una famosa lettura tenuta nel 1959, il 22 dicembre. Ora, il vivente. Guglielmo Lanzania, che la volta scorsa si è riferito al vivente e a quei pochi atomi fondamentali che servono per realizzare il vivente, che sono comuni a tutti i viventi e aveva ricordato appunto che tra lui, tra George Clooney e Lanzani, sempre questi sono gli attimi a disposizione, ma evidentemente il modo in cui questi si assemblano tra di loro fa la differenza, che si può cogliere in alcuni casi nei tratti come in questo tratto che aveva indicato lo stesso Guglielmo. Io vorrei provare a riferirmi, oltre che al vivente, alle nanotecnologie, per il vivente. Le nanotecnologie direi che le possiamo collocare tra quelle che sono state considerate le forze rivoluzionari, cioè che in qualche modo hanno cambiato il nostro modo di vivere. Senz'altro le macchine tessili, direi senz'altro la ferrovia, le automobili. Ora, se pensate le automobili in realtà, l'automobile come è stata inventata e quella di oggi, sempre quattro ruote a motore a scoppio e un volante per dirigerla da qualche parte, non è cambiata tantissimo, dei gadget fortemente tecnologici, altre cose, ma non è cambiata tantissimo. Così pure le macchine tessili e la ferrovia in fondo. Però già con il computer cominciamo a fare un salto avanti e il computer comincia a cambiare un po' le nostre vite, ma senz'altro, penso, con le nanotecnologie le cose cambiano drasticamente. Per nanotecnologie intendiamo la capacità, mia, vostra, delle persone, di osservare e controllare la materia, quindi qualunque cosa ci circondi, vivente o non vivente, inanimata, sulla scala del miliardesimo di metro. Questo è quello a cui ci riferiamo. Quindi se noi pensiamo ad un mammut e pensiamo in qualche modo di poterne cambiare le proprietà della pelle su un ultimo strato della pelle del mammut, stiamo facendo nanotecnologie. Quando usiamo un cosmetico stiamo realizzando un esperimento nanotecnologico in fondo, cioè stiamo mettendo su una superficie delle nanoparticelle, degli oggetti piccoli, che faranno, esibiranno la loro funzione mischiati sulla superficie della pelle e poi andranno a finire dove andranno a finire. Ora, nanotecnologie vivente, credo che ci possano far pensare in alcuni casi alla fantascienza, ma la fantascienza, così come per quelli di voi che hanno letto i libri di Asimov o molti altri libri di fantascienza, se ci pensate il nostro rapporto con la fantascienza è cambiato tantissimo in questi ultimi anni. Per chi ha letto Dalla Terra alla Luna, romanzo del 1865, e ha vissuto la discesa degli astronauti sulla Luna nel 1969, sono passati poco più di cent'anni, tanti, ma oggi invece quando vediamo un film da Matrix a Star Wars a qualunque altro film di fantascienza o leggiamo un libro di fantascienza, ci accogliamo, probabilmente ci accorgiamo che in realtà quella fantascienza la stiamo già vivendo, cioè il tempo effettivamente si è ristretto molto e allora quei sei atomi sono anche quei sei atomi che compongono Richard Feynman con qualche variante, anche in questo caso. Appena accenno a questo, la gente mi parla della miniaturizzazione e di quanti progressi si stiano facendo e si siano fatti fino a oggi. Mi parlano di motori elettrici grandi quanto l'unghia del dito mignolo e di uno strumento già in commercio con cui si può scrivere il padre nostro sulla capocchia di uno spillo. Ma questo è niente, è il passo più primitivo nella direzione che intendo discutere. Il mondo là sotto è di una piccolezza stupefacente. Voglio dire c'è molto spazio là in fondo. Queste erano le considerazioni di Feynman di nuovo il 22 dicembre del 59. Lo spazio al quale si riferisce è uno spazio al miliardesimo di metro, è uno spazio che dentro di noi è scala dentro la pelle, tra le cellule, nelle macromolecole, nel DNA fino ad arrivare agli atomi e tutti questi con delle piccole modificazioni ad una scala decisamente molto piccola producono degli enormi cambiamenti nelle persone che li ospitano ad esempio. Quindi veramente la scala in una direzione e nell'altra, quindi in questo caso ritornando verso lo spazio, è estremamente importante. La scala a quale si riferiva Feynman è una scala piccola, questa. Quella punta è una punta di poche centinaio di nanometri, non è una macchina da cucire ma è una macchina che in qualche modo può sondare e modificare la materia. Assomiglia ad un vecchio giradischi, è una punta che si avvicina e come noi tutti fa una cosa bellissima, finché è distante non succede nulla, quando è in vicinanza viene suscitata un po' di attrazione quindi viene attratta ma quando è troppo vicina la privacy si prevale e viene respinta e in questo modo la materia può essere sondata sulla scala del miliardesimo di metro o modificata. In quegli anni, negli anni di quella punta, negli anni di quello strumento, gli anni 80, metà degli anni 80, questo signore Don Heigler aveva cominciato a fare un gioco, spostare con una punta gli atomi della materia come voleva lui. Per fare vedere che poteva farlo come voleva lui si è messo a scrivere anche delle cose, IBM che era la sua ditta, quelle sono due atomi d'oro, altre cose, ma a dimostrare che poteva cambiare la posizione degli atomi a suo piacimento ma se cambia la posizione degli atomi cambiano le funzioni della materia che li ospita e quindi questa è modificabile. La materia che ospita, il modo in cui la materia è strutturata alla scala molto molto piccola alla quale fa riferimento Feynman è rilevante. Se la superficie è come questa superficie alla vostra sinistra, vedete che quella goccia di acqua appoggiata su quella superficie rimane rotonda, l'acqua viene respinta, ma se la superficie cambia e ha quella forma a quadretti, quella stessa goccia di acqua tende ad allargarsi un po' sulla superficie, a dire che cambiamenti molto piccoli sono molto importanti e allora se noi riusciamo a cambiare la struttura, la superficie ad esempio di un foglio di carta, inserendovi delle particelle molto piccole, riusciamo a ottenere delle zone, quelle intorno a quel corral dove l'acqua viene assorbita e quelle al centro dove ad esempio l'acqua non viene assorbita. Possiamo fare questo gioco tra virgolette con l'acqua, possiamo farlo col fuoco, cioè possiamo modificare le proprietà superficiali della materia in modo da farle svolgere funzioni e attività differenti, a nostro piacimento, andando a quella nanoscala tanto cara Feynman. Ora non so se conoscete la storia di questa spugna, è una spugna normale da cucina, ma questa spugna viene trattata in superficie con delle nanoparticelle. Il blu che vedete lì, che avete visto lì e che vedete in questo filmato, è dell'olio, la parte trasparente è dell'acqua. Cosa fa questa spugna? In presenza di acqua e olio raccoglie l'olio e respinge l'acqua. In caso di disastro ambientale possono essere messe sull'altra superficie delle nanoparticelle magnetiche, può essere pilotata a distanza e può andare a fare un'azione di ripulitura o se volete di ripescaggio di oli in acqua, semplicemente cambiando alla nanoscala le sue proprietà. Siamo interessati però al vivente, beh anche questo è per il vivente, ma siamo interessati particolarmente al vivente, vedremo tra un po' perché, proprio dalla lettura di Feynman. Quello che vedete qui non è un'immagine molto bella, sono delle cellule, ma sono delle cellule nelle quali lungo quella linea bianca della prima con scritto zero minuti, sono state fatte delle operazioni a livello di cromosoma senza che il resto della cellula se ne accorgesse, utilizzando un fascio laser sottilissimo e quindi intervenendo direttamente nel vivente in una scala molto molto piccola cambiando nelle proprietà. Questo a dire che siamo in grado di fare queste operazioni di osservazione e di controllo di quello che avviene alla nanoscala con l'inanimato e con il vivente. Sempre nell'idea di Feynman, idea di Feynman della quale ora, rispetto alla quale ora cercheremo di andare in un dettaglio molto più biologico, perché è il dettaglio biologico che interessa Feynman e che Feynman porta l'attenzione dei colleghi il 22 dicembre del 59. Si dà il caso che abbiamo qualche collega biologo, li guardiamo con commiserazione. Volete sapere perché state facendo così pochi progressi? In realtà è esattamente il contrario. Non conosco un campo in cui non si facciano progressi così rapidi come in biologia. Non usate abbastanza matematica. Prendete esempio da noi, al che potrebbero ribattere ma sono educati e quindi lo faccio io. Volete sapere cosa dovete fare voi fisici perché noi possiamo metterci al passo? Costruire un microscopio cento volte migliore. Il microscopio appunto. Ho portato qui uno dei primissimi microscopi, è il microscopio di Van Leveneck. Van Leveneck era un tessitore, un inventore, il primo che ha osservato il mondo vivente con un microscopio. È un pezzetto di metallo con incastonato un pezzo di vetro rotondo, si avvicina all'occhio e qualunque cosa oltre questo oggetto si vede ingrandita qualche volta e si può cogliere il dettaglio. Tra i primi microscopi annoveriamo anche il microscopio in realtà di Galilei. Lo porto alla vostra attenzione non solo per amor patrio ma per il fatto che il termine microscopio viene coniato proprio in relazione al microscopio di Galileo Galilei. Una lettera all'Accademia dei lincei con questa frase, microscopium nominare libit, quello che Galilei aveva chiamato l'occhialino per vedere cose piccole, cose minime. Quindi è un nome che nasce in casa in qualche modo. Ma non so se riconoscete questo posto, se alcuni di voi riconoscono questo posto e non ve lo faccio vedere perché l'Alzheimer sta prendendo un sopravvento, ma almeno non in questo momento credo. Questo è il monastero dove ha vissuto San Francesco a Cortona. Questo è un dettaglio. Ve lo faccio vedere perché c'era un signore, un certo Robert Tuck, che era un fisico curioso e dotato di microscopio. Quindi un pezzo di vetro, la luce del sole e degli oggetti da osservare che cercava da tutte le parti. Li osservava e in modo molto diligente, una volta osservati a matita e non aveva il computer evidente, 1600 il periodo, disegnava quello che vedeva e scriveva una leggenda. Ma quando si trovò di fronte a questa immagine che aveva disegnato, non sapeva esattamente che cosa scrivere. Gli venne in mente che aveva un amico che stava in un monastero, che lui aveva visitato qualche giorno prima e gli era rimasta impressa la struttura molto regolare di quel monastero, la struttura delle sue celle o cells. E chiamò questa struttura struttura a cellule. I biologi usano il termine da allora, usano il termine cellula per denotare la cellula così come la immaginiamo e pensiamo oggi. Questo a dire di quanto è intimo il rapporto che c'è tra il microscopio, qualcosa per vedere già ad una buona scala migliore di quella dell'occhio e la biologia, cioè lo studio del vivente. Quindi qui vedete il microscopio di Van Leven e che lì nello sfondo è un microscopio moderno. Con il vostro occhio quello che riuscite a vedere è grossomodo quello che sanno bene quelli che costruiscono i righelli, che sono più genovesi dei genovesi in realtà, perché non farebbero mai delle spaziature più fini di quanto voi poteste cogliere in termini di dettaglio. Quindi quando vi offrono il decimo di millimetro è lì che riuscite a vedere. Ma se volete cogliere informazioni sul vivente prendete il pezzo di vetro, prendete il microscopio, avete dei limiti dati dalla fisica, poco importa quali, cominciate a riuscire a vedere il vivente alla scala cellulare e un po' dentro alle cellule. Per farlo quindi usate delle lenti di vetro o se volete essere molto veloci, e ve lo propongo un po' in anteprima, delle nuove lenti che sono delle lenti liquide, sono delle lenti fatte di olio siliconico, si vede forse la su in cima si vede una goccina. Quelle lenti sono molto interessanti perché quando voi dovete mettere a fuoco un oggetto che si sta muovendo o un oggetto che volete fotografare, tipicamente spostate la lente di vetro della vostra macchina fotografica o del microscopio secondo quello che state giocando e ci vuole un po' di tempo, state spostando un oggetto fisicamente. Se dovete essere molto veloci potreste avere delle difficoltà. Allora abbiamo pensato, si è pensato recentemente di usare delle lenti liquide, delle palline di liquido che ricordano un po' le gocce di rugiada, a questa viene somministrata della musica non udibile, 140 kHz, 9 MHz, quindi molto molto vibrata, questa vibrazione fa spostare il fuoco della lente e vi permette di vedere sempre gli oggetti a fuoco anche se si muovono rapidamente. Quindi prima li avreste visti così, ora in modo rallentato degli oggetti che si muovono sotto la vostra lente in quel modo o in modo non rallentato così acquisendo una cosa del tipo 20.000 quadri immagini al secondo, in questo modo voi potete cogliere il vivente come questo nel suo spazio tridimensionale perché riuscite a vedere una parte a fuoco, una seconda parte a fuoco, una terza parte, lo riuscite ad affettare nello spazio tridimensionale e nel tempo perché siete molto veloci. Ora tutto questo, tutto questo che voi riuscite a vedere rientra ancora nel vecchio microscopio, non quello migliorato cento volte, anzi illimitato, nel 1947 circa un fisico fiorentino, la cui foto è lì, Giuliano Toraldo di Francia, introdusse per la prima volta il concetto di super risoluzione, una specie di supervista. Ci si domandava se sarebbe stato possibile ottenerla? È possibile ottenerla, la super vista è quello che riusciamo ad avere con un microscopio ottico, non con un microscopio elettronico, per vedere il vivente ad un dettaglio non più limitato dalle leggi della fisica, senza violarle, ma superandolo in modo illimitato. Ora, eravamo già in grado di vedere delle cose molto fini usando dei microscopi, dei quali forse avete sentito parlare, i microscopi elettronici, già ci permettevano di vedere bene le proteine, le singole macromolecole, però se io volessi sapere qualche cosa del vostro vivente, magari per una diagnosi, per capire se le cose stanno andando bene o se un dato farmacologico ha prodotto i risultati sperati, se volessi vedere su quella scala, sulla scala delle proteine vi dovrei chiedere una gentilezza, vi dovrei chiedere, vi avrei dovuto chiedere col microscopio elettronico di farvi solidificare, ci sta, di farvi affettare fisicamente, non sentite male perché siete solidificati però, di farvi bombardare da elettroni e poi avrei potuto ottenere l'informazione che volevo, eppure non sarei stato contento perché avrei perso la possibilità di seguire a quel dettaglio fine le cose come vanno nel tempo, non riesco a ricostituirvi e a vedere poi se il farmaco ha fatto effetto e riaffettarvi eccetera eccetera, se invece potessi farlo con la luce sotto la quale stiamo tutto il giorno, radiazione visibile, beh la situazione sarebbe migliore ed è questo il motivo per cui si costruiscono oggetti nel visibile e per questo i nuovi microscopi che hanno permesso la vista illimitata si sono guadagnati l'onore del riconoscimento Nobel nel 2014, cioè questi tre signori sono stati pionieri nella realizzazione di microscopi con possibilità illimitate di dettaglio, in termini di dettaglio, insomma il capello è tagliato in molte volte più che quattro da questo momento in poi. Mi sono concesso questa diapositiva, ho chiesto il permesso per farla vedere perché forse è in inglese, sembra ostica, ma vuole dire una cosa, qual è il segreto che aveva già capito Toraldo di Francia per ottenere una visione illimitata? È quello di essere in grado di controllare di quello che si vuole vedere due stati chiaramente distinti ad una scala molto piccola. I due stati possono essere una molecola che emette luce e non la emette, una molecola che assorbe luce o non la emette, una molecola che riflette la luce o non la riflette, uno spin magnetico per essere un po' più complicati che sta in su o in giù. Se io sono in grado di controllare queste proprietà riesco a ottenere una risoluzione illimitata come si riesce oggi. E badate, il trucco è semplicissimo, è una specie di uovo di colombo, lo potete fare anche voi in questa stanza a costo zero. Questa è una cosa che mi è cara essendo di Genova. Come potreste fare a vedere meglio chi vi sta intorno a costo zero? Quindi non chiedetemi di accendere e di aumentare la luce perché un genovese non lo farebbe mai. Vi viene in mente qualcosa? Se voi provate a mettere un pugno chiuso davanti al vostro occhio e strizzate un po' e guardate la persona che vi interessa, immediatamente la vedete meglio. Se volete vedere tutta la scena basta che facciate così e poi se state facendo un esperimento dovete prendere in considerazione quello che succede nel tempo, cioè se voi vi spostate molto lentamente o molto rapidamente rischio di vedervi due volte o di non vedervi mai. Ma questo fa parte dell'esperimento. Ma il trucco del Nobel è esattamente quello, lo vedremo tra un po'. Quindi costruire i microscopi alla Feynman vuol dire i nuovi microscopi, vuol dire insomma accrocchiare strumenti, componenti ottici in un laboratorio in modo, in un modo preciso diciamo, ma in un modo che ricorda un po' i giochi col meccano e questa è quella parte divertente alla quale faceva riferimento anche lui e vuol dire utilizzare la luce. Usarli per indirizzare la luce sugli oggetti che ci interessa osservare e raccoglierne eventualmente un segnale luminoso. Questo è quello che ci interessa fare. Oggi le domande cruciali della biologia sono del tipo qual è la sequenza di basi del DNA? Che succede quando avviene una mutazione? Che relazione esiste tra l'ordine delle basi del DNA e quello degli aminoacidi nelle proteine? Qual è la struttura dell'RNA? Ha una sola catena o ne ha una doppia? E qual è la relazione tra l'ordine delle sue basi e il DNA? In che modo sono organizzati i microsomi? Come vengono sintetizzate le proteine? Dove va l'RNA? Dove risiede? Dove si trovano le proteine? Dove vanno a finire gli aminoacidi? Nella fotosintesi dov'è la clorofilla? Com'è distribuita? Dove stanno i carotenoidi coinvolti nel meccanismo? Qual è il processo per cui la luce si converte in energia chimica? Ecco queste domande a perdifiato erano quelle che si poneva Feynman nel 59 questa è la cellula questo sacchetto se volete dotato di tubi innocenti a proteggere cosa? A proteggere delle cose che stanno in un nucleo che sta lì dentro dove è contenuta l'informazione per decidere che cosa fare nel prossimo istante? E come mettersi insieme? Come regolare le proprie funzioni? Di tutte queste cose era curioso Feynman ed era sicuro che si sarebbe riusciti prima o poi a districare la matassa dell'intricato mondo della biologia e quelli sono i tubi innocenti che stanno dentro al sacchetto cellula con molecole e proteine che si muovono in modo ordinatissimo in realtà e sincronizzatissimo. si tratta veramente di una nanomacchina perché se ci pensate nella nostra definizione iniziale di nanotecnologie abbiamo toccato il punto del fatto che delle modifiche al miliardesimo di metro di n a due nanometri producono degli effetti su una scala più grande e sempre più grande e sempre più grande allora capire quel meccanismo è interessante riuscire ad osservare di ogni singola molecola qual è il funzionamento e quali sono i suoi meccanismi quando voi estendete un muscolo e avete qualche cosa che sta tra virgolette concedetemi zappettando lungo un filamento beh quando voi non riuscite più a estenderlo bene o provate dolore vuol dire che c'è qualcosa a livello molecolare che si frappone tra voi e l'azione che andrebbe svolta e quando dentro quel sacchettino i tubi innocenti per proteggere il contenuto informativo si vanno ad assemblare come in questo modo o si distruggono per fare posto ad altri o perché ci sono delle situazioni patologiche che li inducono a farlo bene tutto questo avviene effettivamente ad una scala molto molto piccola quando ci sono le vescicole che con il loro cargo con il loro trasporto funzionale a far fare le cose delle cellule si muovono in mezzo a questi tubi innocenti che salgono e scendono da questa struttura oppure quando pensate effettivamente alle quelle che si hanno scritto sui vostri esami colesterolo alto si tratta di oggetti che si vanno a piazzare sulla membrana delle cellule e modificano il funzionamento molto semplicemente però poter accedere a queste informazioni osservarli contarli quantificarli è la cosa rilevante ma senz'altro una delle cose più rilevanti riguarda il dna non è solo questione degli studi sul genoma umano ma voi pensate al fatto che questi due signori da quegli sguardi un po allampanati Watson e Crick di nome di cognome anzi forse gli avessero chiesto come si chiamano Crick e Croc perché sembrano un po divertiti allampanati di fronte a quella scala a chiocciola il dna questi due signori insieme a Wilkis che realizzò gli strumenti insieme a Rosalind Franklin che non venne insegnita alle premie nobel perché morì di cancro prima che questo potesse avvenire ecco questi quattro capirono una cosa e la capirono da questa immagine guardando e studiando questo tipo di immagini capirono che chi poteva averle prodotte era una struttura che si organizzava su una scala a chiocciola tra l'altro bella armoniosa una bella soluzione a un'immagine che non era un granché scrissero un articolo una pagina in quella pagina stavano scritte tre righe importanti non sfugge alla nostra attenzione che il modo di organizzarsi di queste molecole può influenzare il trasferimento dell'informazione genetica punto premio nobel poi dopo qualche anno questa struttura si vede anche con microscopi tipo quello che vi ho fatto vedere all'inizio a puntina di giradischi oppure viene utilizzata perché in fondo bella nelle architetture ma pensate questa struttura incarna esattamente il discorso di Feynman è una struttura che ad una scala molto piccola si organizza e super organizza tante volte portando dietro un contenuto informativo che rilascia quando è il caso provate a immaginare quindi il nucleo che è quella parte rotondeggiante e da lì l'entrata e l'uscita di informazioni ma provate a immaginare questo come una grande biblioteca con milioni di volumi e in quella biblioteca stanno dei bibliotecari efficientissimi delle bibliotecarie efficientissime che mentre le persone passano davanti alla biblioteca casualmente apparentemente in modo casuale escono avendo prelevato uno di quei 16 milioni di volumi avendolo aperto ad una pagina speciale e portandolo davanti alla persona per fargli vedere che cosa dovrà fare prossimamente certo quei bibliotecari potrebbero sbagliare volume oppure potrebbero prendere il volume giusto e sbagliare pagina oppure potrebbero prendere il volume giusto la pagina giusta e sbagliare persona ma tutto questo avviene in una maniera incredibilmente efficiente e quella biblioteca ha tantissimi lettori visitatori a degli orari di apertura e chiusura cioè fa le cose secondo delle regole ben precise eppure ha questa abilità grandissima quando è necessario l'informazione viene portata fuori da lì viene fatta leggere a qualcuno e questa lettura serve ad attuare delle cose che si organizzano le informazioni organizzate in questo modo a servire il vivente a talone di queste domande sarebbe facile rispondere basterebbe guardare basterebbe guardare basterebbe avere una bella foto una bella immagine una buona immagine che ci porti a decidere qualcosa a pensare qualcosa rispetto al suo contenuto un'intera narrazione attraverso l'immagine beh questa è una cellula è come si vede con un microscopio normale in blu il dna protetto dai tubi innocenti verdi e beh con un po' di energia che sta in quegli oggetti rossi che sono prevalentemente mitocondri il reticolo quel reticolo con tutte le sue molecole ad una scala relativamente fine e quelle cellule quegli oggetti rosa verdi e blu che sono organizzati in tessuti in organi in funzione di come erano oppure si vanno a organizzare come questa cascata colorata dentro al cervello sono i neuroni e quei colori non stanno lì solo per bellezza quei colori stanno a dire che modalità di comunicazione vi saranno che funzione ha quel neurone lì in quel momento in quell'istante pronto a leggere quella pagina di libro aperta da un bibliotecario efficiente quindi basta guardare basta guardare e attraverso queste diciamo immagini è possibile capire il vivente che cosa sta facendo però vedremo che questo non è sufficiente il fatto di sondare il vivente con un fascio di luce come in questo caso e costruire un'immagine tridimensionale ci permette di coglierne meglio le modalità di funzionamento e di correggere le modalità di funzionamento indesiderate queste disgraziatamente sono delle cellule tumorali che si sono aggregate in un piccolo sferoide un 200 micron poco importa quanto è grande e queste sono di nuovo delle modalità di funzionamento del vivente nelle quattro dimensioni sì lo spazio tridimensionale è il tempo che avrei perso con il microscopio elettronico e c'è stata una grande rivoluzione in questo basta guardare questi tre signori hanno scoperto delle proteine quindi qualche cosa che sta dentro le cellule a una scala molto piccola proteine grandi circa 5 miliardesimi di metro che fanno una cosa meravigliosa se sollecitate con una radiazione particolare emettono luce quindi fanno vedere dove sono il signor Shimomura ha individuato il meccanismo nelle meduse nelle profondità marine il signor Cialfi che è il primo ha capito che queste potevano essere patrimonio di qualunque vivente espresse da qualunque vivente e il signor Sien che studiava molto la fotofisica di quelle molecole ha capito che le poteva anche ottenere colorate quindi che emettono luce di tutti i colori come in questo caso e come quella cascata che avete visto prima di neuroni all'interno del cervello per poter meglio differenziare quello che succede nel vivente il signor Cialfi laureato Nobel nel 2008 le ha utilizzate per capire come si organizza il sistema nervoso di un vermicello sistema modello di realizzazione del sistema nervoso in questo caso invece quel segnale verde che vedete sono delle proteine verdi fluorescenti attivate dentro al nucleo di una mamma cellula poi questa mamma cellula ha figliato e dato che quelle erano le uniche attivate voi potete seguire il destino di un patrimonio che era contenuto nella madre nelle cellule figlie quindi potete veramente aggredire e attaccare il vivente per conoscerlo in differenti modalità nello spazio e nel tempo ancora per ora per poco un po' limitati nella risoluzione si vedrebbe l'ordine delle basi nelle catene la struttura del microsoma sfortunatamente il microscopio vede a una scala un po' troppo alta migliorate la risoluzione un centinaio di volte e tanti problemi della biologia diventeranno molto più facili esagero è ovvio ma i biologi ve ne sarebbero grati e preferirebbero senz'altro questo alla critica che dovrebbero usare di più la matematica ed è proprio questo che i nobel di cui abbiamo parlato prima è lì che hanno fatto breccia con i nuovi strumenti con i nuovi strumenti che usano quel trucco del quale abbiamo parlato e che è riportato in luce piuttosto che un pugno davanti a un occhio è proprio questo vedete quel doppio cono verde è il fascio di luce che serve a sondare la materia quelle due palline rosse quando la materia va sotto quel fascio e produce un'immagine o una traccia col microscopio convenzionale quella traccia rossa non vi permette di distinguerle è un microscopio ottico servirà il super microscopio il pugno davanti all'occhio quell'oggetto rosso fatto con un secondo fascio luminoso e in questo caso i due oggetti li distinguete benissimo è un uovo di colombo però è l'uovo di colombo che permette di ottenere una risoluzione illimitata con il microscopio ottico prima vedevate così e ora vedete così beh semplicemente con quel trucco di cui parlavamo prima prima dentro ai tubi innocenti vedevate così poi spostate vi muovete con il vostro pugno davanti all'occhio vedete immediatamente meglio mi spiace questa è molto scura ma prima ora potete vedere le singole molecole una per una e farne una mappa con un dettaglio che è quello del miliardesimo di metro non potevamo farlo prima insomma siamo un po' come pittori puntinisti in realtà solo che capite immediatamente che il nostro pennello si è fatto finissimo e quindi riusciamo a riportare un'informazione con un dettaglio che non avremmo immaginato non si tratta esattamente solo di dettaglio perché io credo che se a voi piace questo quadro questo dipinto sulla sinistra anche prendendone i dettagli non cambiereste idea in fondo e quello che quello vi evoca ve lo evoca sia in toto che in dettaglio è il modo diverso di presentare l'informazione che è dato dalla possibilità illimitata di cogliere il dettaglio che conta io credo che lì riconosciate forse Lincoln ma se quell'informazione vi viene proposta in un modo differente avete un'immagine differente che immediatamente vi fa cambiare idea su quello che state vedendo e prendere una decisione diversa da quella che avreste potuto prendere se lì riuscite a vedere Marilyn e avete poi un dettaglio più fine cambia immediatamente lo scenario eppure ora voi potreste fare i microscopi antichi potreste fare diventare quell'Einstein così dettagliato di nuovo Marilyn semplicemente socchiudendo un po' gli occhi e allora i baffi diventerebbero le labbra carnose a basso dettaglio e i capelli dietro diventerebbero la pettinatura ora il medico di oggi ha questo Einstein prima aveva quella Marilyn e allora se sbagliava nella sua diagnosi il biologo anche beh si poteva poteva essere scusato maggiormente che non rispetto ad oggi ripeto qui poteva presumere che vi fossero un certo numero di molecole lì le può contare una per una e nel tempo prima vedeva così e ora vede così prima vedeva come nella parte alta e ora vede come nella parte bassa prima quando due cellule neuronali si toccavano quasi poteva prevedere che vi fossero dei bottoni sinaptici e trasferire le informazioni e adesso può cominciare a pensare di contarli e di vedere tutto questo mentre avviene questa è la cosa interessante crediamo in questi processi ad esempio prima venivano visti come vedete lì al centro un po' sfocato e oggi li potete cogliere così cioè potete guadagnare in modo quantitativo delle informazioni nuove fare un nuovo quadro puntinista prima i ribosomi li vedevamo o col microscopio elettronico in quel modo fabbriche di proteine o col microscopio ottico come lo vedete meglio dettagliato in quei due modi e ora riusciamo a fare dei filmini della loro disposizione o su superficie o all'interno delle cellule ad un'altissima risoluzione vedendo come questi si organizzano nello spazio e nel tempo e così per tantissime altre molecole centrioli i responsabili delle cigliopatie e lasciatemi tornare alla vicenda del DNA il DNA dentro quel nucleo con quelle porte di accesso che erano i pori che prima vedevo così e ora vedo come a destra cioè prima li vedevo in questo modo e ora li vedo così li posso contare posso capire cosa sta succedendo chi si attacca lì e perché si attacca lì è utile che qualcuno si attacchi a quel porro nucleare quando deve scambiare informazioni posso provare a dare risposte a queste domande perché posso accedere a queste informazioni sulla scala alla quale sono presenti in un processo di replicazione e trascrizione prima vedevo come è sotto non riuscivo a contare le molecole coinvolte adesso vedo come è sopra comincio a poterle contare siamo credo non so se l'avete letto come in un Alep nell'Alep di Borges quando entrate in questa casa e scendete fino al diciannovesimo gradino e vi chinate un po' dispetto del mal di schiena da lì potete vedere tutto e Borges dice la vostra incapacità di vedere non invalida la mia testimonianza ed è quello il punto al quale siamo possiamo veramente vedere tutto interpretarlo potrebbe essere più difficile rappresentarlo potrebbe essere più difficile servono invenzioni nuove griglie riga colori punti quadretti e occorre imparare a leggere questa realtà perché pensate se ci vedessimo fuori di qua e anziché vederci così potessimo vedere tutte le molecole che stanno sul nostro volto sarebbe altrettanto semplice riconoscersi senza un po' di allenamento sarebbe probabilmente un po' più complicato quante volte lavorando su un oggetto insopportabilmente piccolo come l'orologio da polso di vostra moglie vi siete detti se solo potessi addestrare una formica a farlo il mio suggerimento potrebbe essere di addestrare una formica ad addestrare un acaro a farlo che possibilità abbiamo di realizzare macchinari piccoli ma mobili non è chiaro se potrebbero servire ma di certo sarebbe divertente costruirli è sempre il 1959 e questa idea le due cose interessanti scalare acaro formica e poi fare qualche cosa in fondo divertente che è quello di provare a scoprire delle cose allora perché no andare a montare un microscopio o un piccolo macchinario su una punta molto piccola qualche miliardesimo di metro per andare a sondare la materia là in fondo perché non dimostrare come è stato ormai fatto la nostra capacità di costruire oggetti quella scala è una scala del centinaio di miliardesimi di metro oggetti complicati non utili ma solo per dimostrare l'abilità nel risolvere la complicazione controllando la materia ad una scala piccola fare panchine molle qualunque cosa ad una scala molto molto piccola proprio perché siamo in grado di controllare lì la materia oltre che di osservarla magari costruire delle piccole astronavi o mandare delle nanoparticelle come questa dimensione totale decine di miliardesimi di metro con un rivestimento blu per riconoscere un bersaglio una parte intorno a fare da cavallo di troia per non essere respinta dal nostro sistema immunitario una parte interna attiva per somministrare un farmaco farsi riconoscere da un elemento diagnostico fare qualunque altra cosa dentro il nostro corpo lì siamo arrivati nanoparticelle in fondo in alcuni casi anche belle ma qualche cosa che sta entrando ed entra nel vivente un mio amico Albert Hibbs suggerisce un'interessante possibilità terapeutica e cioè ma che idea orripilante che il paziente possa inghiottire il chirurgo si mette il chirurgo meccanico nel vaso sanguigno e questi seguendo la corrente arriva al cuore e si guarda attorno non so se ve lo ricordate questo film viaggio allucinante e di nuovo siamo ritornati su questo viaggio perché è in questa di nuovo modalità che si accede ad un'informazione che suscita un senso di meraviglia incredibile ma veramente questo oggi si può fare si possono portare delle sonde nel vivente e si può osservare ad esempio un battito cardiaco dentro al vivente in questo caso un pesciolino trasparente per andare a vedere dove sono andate a finire la zona più chiara delle nanoparticelle che facesse cosmesi o d'altro non era dato sapere da questo pesciolino ora viene il bello come si fa a costruire un meccanismo così piccolo l'idea che abbiamo per costruire oggetti così piccoli detti lab on chip cose che vi potete portare addosso e che ormai vi portate addosso è quella di usare i nuovi materiali e i nuovi materiali sono materiali dei quali avete anche già sentito parlare sono fatti di questo insieme di materiali noti e di nuove particelle sono materiali con i quali potremmo fare anzi già facciamo un microscopio origami portatile da delle prestazioni discrete ma che potete usare ad esempio a bassissimo costo 50 centesimi per andare a vedere se dell'acqua è contaminata e quindi decidere se berla o meno potete realizzare come è realizzato questa start up dei materiali plastici che traggono energia da fonte luminosa sfruttando le proprietà fotochimiche dei frutti di bosco del ribes in questo caso materiali estremamente flessibili oppure come hanno fatto questi ragazzi hanno pensato di sfruttare questa idea l'idea di Van Leveneck l'idea della goccia di rugiada da applicare ai vostri eventualmente interessati cellulari e quindi poter emettere una piccola lente con la quale poter andare ad osservare ad un livello diciamo di microscopia non particolarmente elevato ma in alcuni casi utile le cose ad un dettaglio molto più fine quell'oggetto di nuovo grazie alla possibilità di realizzare nuovi materiali costa dai 50 ai 70 centesimi è una pallina di plastica in fondo non so di nuovo restando un po' nella filmografia quanti di voi abbiano visto il film il laureato e se ve lo ricordate ma nelle scene iniziali del laureato quando lui torna a casa dal college è citato però insomma non sa che cosa cosa fare ragazza in piscina ha un amico di famiglia che lo insegue non so se vi ricordate questa scena è un cameo che ha deciso di mettere il regista un cameo fortemente tecnologico perché questa persona lo insegue e gli continua a dire ti devo dire una cosa importante ti devo dire una cosa importante lui Dustin Hoffman continua a girare per questa casa finalmente lo raggiunge e gliela dice non dimenticarti mai più questa parola plastica è il 1960 natta viene insegnato del Nobel per la plastica l'Italia ne detiene il brevetto immaginate che cosa vuol dire avere un brevetto nella plastica ed è il nuovo materiale oggi il nuovo materiale si chiama grafene è qualche cosa che derivato dalla matita è studiato ad una scala molto molto piccola in termini di interazioni con quello che gli sta attorno lo potete fare anche voi su un foglio sfregate la matita poi spellate in modo molto dolce quello che avete tracciato e quando non vedete più niente forse ci sono degli strati di grafene ma quello che è interessante è che questo insieme ordinato di atomi di carbonio ha delle proprietà incredibili ve le faccio scorrere lì dietro Vittorio Pellegrini è un esperto di queste cose ma pensate una signora che si stia preparando per la prima dell'opera è un po' in ritardo le è concesso ha terminato la vestizione ma si sente un urlo tremendo è una prima non c'è la borsetta adatta al vestito scelto non c'è tempo per cambiarsi siete già un po' in ritardo ma se la borsetta fosse in grafene voi potreste fotografare il vestito mandare l'informazione wireless alla borsetta e questa si trasformerebbe in forma stile e colore a come vi occorre è un esempio frivolo e non importa se verrà realizzato o meno ma è solo per dirvi che questo nuovo materiale apre la porta almeno a una quantità enorme di grandissime nuove idee che sono probabilmente praticabili usandoli in modo appropriato tante ce ne sono già e tante credo ve ne saranno tra le proprietà che a me interessano perché riguardano il vivente ritorno sempre su questo vecchio film è quello del fatto che in alcuni casi oggetti depositati su grafene agiscono come ghostbusters catturatori in qualche modo di cellule tumorali circolanti interessante può essere un'interessante prospettiva da un punto di vista medico e devo dire che personalmente maturo un sogno non so se riuscirò a farlo non so se potrà essere così rilevante ma dal mio punto di vista è divertente ed è quello che dato che la Samsung ha deciso di investire in un cellulare che avrà le dimensioni del cristallo di protettivo dei vostri cellulari e farà tutte le stesse funzioni ma ho pensato perché magari non provare a convincere Vittorio Pellegrini nonostante il mercato dei cellulari effettivamente e delle connessioni internet e tutte queste cose sia un mercato per ora molto più ampio a realizzare un domani un microscopio in grafene un microscopio miniaturizzato in grafene un microscopio che magari iCub che è il robot che abita e popola i nostri laboratori e viene a visitare anche il laboratorio di superisoluzione un Feynmaniano iCub di natura beh potrebbe montare su un dito lui o un chirurgo non si tratta di un gioco puntadito come questo ma si tratta di una cosa più seria avere un dispositivo che permette di fare diagnosi a livello molecolare montato sulla punta di un dito o di iCub o di un chirurgo e che riporta chissà magari le informazioni a livello molecolare direttamente nei vostri google occhiali potrebbe essere utile magari un medico in una fase operatoria potrebbe decidere di non chiamarla affatto la biopsia di prendere una decisione sulla base di quelle informazioni in un tempo molto più breve la medicina potrebbe cambiare scenario perché avere a disposizione questa possibilità di investigazione del vivente permette di costruire di avere una quantità di dati e di informazioni incredibili basta guardare basta immergersi in questo mondo alla nanoscala per provare a capire quello che succede e allora sentirete chi vorrà venire la prossima volta Barbara Mazzolai Barbara Mazzolai parterà di un robot plantoide e allora perché non pensare è della cosa che in realtà penso nel voler scandagliare quello che succede nel cervello visto che oggi abbiamo la possibilità di passare da quel dettaglio a questo dettaglio e oggi in realtà ci possiamo avvalere di strumenti di quel tipo quasi degli endoscopi che non riusciamo a portare nel cervello per una serie di motivi che ad alcuni di voi sono chiari altri magari meno ma è difficile portare per via delle dimensioni beh perché non provare ad utilizzare le strategie delle radici per penetrare in degli oggetti biologici con una sonda che si autocostruisce come una radice e che porta sulla propria punta un microscopio tra virgolette microscopio ormai miniaturizzato che sonda quello che succede localmente e manda informazioni verso l'esterno è che io credo che una parte di queste cose anche di queste ultime siano molto vicine e che in fondo i sogni di Feynman di 56 anni fa abbiano dimostrato in questi anni di essere un'interessante realtà mi piace chiudere col monolito di Odissea 2001 nello spazio e anzi mi piace chiudere con il logo di questa diciamo di questa serie di interventi perché credo che effettivamente conoscere bene quello che succede nel vivente e trarne informazioni per far vivere meglio il vivente sia una delle cose che ci accomuna noi che facciamo ricerca a livello nanotecnologico o tecnologico e quelli che fanno ricerca in altri campi come qui al piccolo e soprattutto vorrei ringraziare tutti voi per l'attenzione e un grazie speciale e un applauso speciale a Lucia Marinsalta per la sua lettura e interpretazione di Feynman grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti